fratelli juventini e sorelle juventine credo che quando si dice che c'è un karma esiste un karma e tutto torna basta avere pazienza noi juventini idealmente ci siamo seduti sulla sponda del fiume attendendo che passasse fra virgolette il cadavere del nostro nemico e chi è il cadavere del nostro nemico se non l'inter che nel 2006 ha distrutto una delle squadre più forti del mondo che probabilmente avrebbe aperto un super ciclo in italia e probabilmente anche un ciclo in europa anche perché ricordo tutti che moggi aveva già preso gerard da aggiungere al centrocampo di emerson evierà mica quei cessi che abbiamo adesso quei cessi perché abbiamo dei cessi a centrocampo sia chiaro presi tutti non ce n'è uno decente ebbene siccome non possiamo godere per la juventus che fa grandi acquisti perché francamente se stasera riprendono pianici io giuro che farò una campagna mediatica contro pianici a meno che faccia 10 gol su punizione e torni a giocare come primo anno allora gli chiederò scusa ma se torna ad essere quello di due anni fa veramente uno schifo veramente uno schifo mi dispiace che allegri lo rivoglia evidentemente allegri ha delle aspettative molto alte da certi giocatori che francamente non hanno deluso però io ripeto aspetto a giudicare max allegri fino a che non vedrò all'opera la sua juventus con i giocatori che per adesso ha già stasera ne parleremo un po allora però il titolo di questo video è inter in svendita signori approfittatene approfittatene perché dovete sapere che in zaghi quando ho firmato il contratto dopo l'addio di conte che fu il primo ad andarsene e quindi sgravato una spesa per l'inter era convinto di avere una grande squadra di poter costruire una squadra assemblare una squadra che potesse lottare per lo scudetto insieme probabilmente alla juventus e magari non so al napoli alla razza o al milan vi dico qualche squadra non credo nella roma ho sempre detto che io non credo in murino perché per me l'allenatore è finito da tempo allora cosa succede che poi però improvvisamente dopo pochi giorni fa la conferenza stampa crede crea il progetto dice che c'è un progetto tutti i giocatori blatterano che esiste un progetto perché il termine esatto è blatterare blatterano che c'è un progetto e di punto in bianco a chi mi se ne va al paris saint germain iniezione di milioni alle le casse dell'inter che nel frattempo è indebitata fino al collo e deve riuscire a fare una una plus valenza di 80 milioni entro rispetto al debito appunto che ha accumulato vabbè comunque dai è andato via a chi mi prenderemo un terzino però in realtà rimangono gli altri no ho sempre due punte di diamante o sempre lukaku e ho sempre lautaro martinez porca caccia di una miseria non arriva mica il celsi che mi offre 115 milioni e lautaro e scusate e lukaku dice non vengo a parma perché stasera c'è l'inter parma a parma qui da me e non vengo a parma perché se mi faccio male io sono già un giocatore del celsi capite com'è mi va mi salta tutto sapete voi me ne date otto la ne vado a prendere dodici più bonus quindi grazie molto gentili si allena da solo ed è imminente il passaggio ufficiale di lukaku per 115 milioni al celsi è finita qua direte voi è finita qua no non è finita qua perché oggi paratici che evidentemente lavora meglio fuori dalla juve che la juve perché sta facendo più piacere la juventus adesso che al tottenham di quando non fosse la juventus che cosa fa fa una proposta di 70 milioni circa per lautaro martinez al tottenham chiaramente lautaro martinez prenderà molti più soldi al tottenham giocherà in una squadra inglese nella premia dove lui ha sempre desiderato giocare perché l'aveva detto anche in intervista che aveva rilasciato in tempi non sospetti e l'inter avrà un'altra iniezione di conquibus e voi direte è finita qua perché conte non c'è più a kimi non c'è più lukaku sta per andare sta per andare lautaro e allora e io cosa ho detto ieri nella live ne approfitto ho detto che la juventus proverà a portar via barella all'inter con un'offerta di 50 milioni pagabile in tre tranche ora sicuramente l'inter cercherà di fare resistenza ma secondo voi secondo voi se la juve proporrà barella un contratto che ne so da 6 milioni non c'è bisogno che ne offra 20 6 milioni barella che non prende 6 milioni all'inter dirà di no non spingerà per venire la juventus una squadra che in qualche modo proverà a vincere lo scudetto quando invece all'inter si è visto scomparire ai giocatori uno dopo l'altro più forti quindi signori quando io quest'estate dissi attenzione perché l'inter farà fatica a pagare gli stipendi farà fatica a iscriversi al campione di serie a tutti a scrivere ma come ti permetti ma tu non sai la potenza di su ning tu non sei qui tu non sei là io ho la potenza di su ning non me ne può fregare di meno io so soltanto che seguo le cose del mondo e sono venuto a sapere ma bastava leggerlo perché si sapevano tutti che in cina hanno chiuso i rubinetti non si possono più investire capitali cinesi all'estero soprattutto in cose come il calcio come altre attività sportive ergo su ning si è vista chiudere proprio la cassaforte e non ha più una lira tant'è che non ha pagato gli stipendi c'è stato un fuggi fuggi generale adesso si vogliono dimettere sia ausilio che marotta in zaghi poveretto è invecchiato di vent'anni in un mese veramente ed in social guardate che è bellissima l'immagine di in zaghi che quando arrivato era giovane fresco e bello adesso è diventato un vecchietto io lo capisco povero cristo perché se stava la lazio forse faceva meglio anzi non è escluso che la lazio arrivava davanti all'inter perché sarri non sottovalutatelo come allenatore come uomo non è granché ma a mio modo di vedere come allenatore è un ottimo allenatore quindi adesso la juventus se riuscirà poi nell'affronto nell'affondo così come fecero loro nei nostri confronti portandoci via un tozzo di pane ibraimovic e via ra e non li ho perdonati mai perché gli hanno ci hanno affamato mentre noi se ne stavamo precipitando nella serie b cosa difficile lo dico prima cosa difficile portare via barella all'inter ma se la juventus veramente è il fatto che non stanno arrivando centrocampisti aumentano i sospetti che questa voce che mi è arrivata sia vera di barella che potrebbe approdare da noi alla juve signori l'inter onestamente voglio che lo scrivete sotto nei commenti perché sono curioso dei vostri delle vostre opinioni secondo voi quanto cosa potrà fare in campionato lasciamo stare la champions ma in campionato cosa potrà fare a che posizione potrà arrivare se vanno via lautare barella oltre a lukaku e akimi faccio fatica a pensare che un zapata un zeko che io adoro lo sapete un pinco palla possono portare l'inter a dei livelli da poter lottare per lo scudetto fino all'ultima giornata lo so dite la vostra io sono sincero sono dispiaciuto per il mio amico neschio sono dispiaciuto per i miei amici interisti perché ci mancherebbe altro no ho un affetto a livello di persona ma francamente da juventino che indossa questa maglia con orgoglio perché io amo la juve non sono dispiaciuto perché non dimentico io non io sono come gli elefanti non dimentico nel 2006 ci hanno deriso ci hanno derubato ci hanno saccheggiato ci hanno vituperato ce ne hanno combinato di tutti i colori e nel 2021 pare che succeda qualche cosa che possa capovolgere le cose sappiate che l'inter è piena di debiti fino al collo e 400 milioni che gli sono stati dati non sono sufficienti per mettere a posto le cose perché perché non lo dice max montaina lo dicono i fatti conte via lukaku via akimi via lautaro via barella via e poi è finita qui l'emorragia è finita qui siori e siori andate a milano al centro su ning ci sono i saldi di fine estate approfittatene perché non capita tutti gli anni fino alla fine forza juve forever vendever huber alles eternally juventus